Adesso, Roma dei motori, Stato e Zanopolo. I etto, questi i primi quattro, si delineano verso il fine. Nelle ultime posizioni vediamo che cosa sta succedendo. Le prime quattro rimangono imperterrite, c'è confusione tra la quinta in giù, per cui i Angelini, che è tutto riuscito, i etto confermano la loro posizione di partenza, c'è i etto che va a rinforzare la quinta in giro, però non è. Lopresti e Milo tentano di sorpassarsi come tenta di fare frasca e danni via la fanno, ma non gli riesce. La zia non sarà lato, ma non è troppo lontano dal suo predecessore Caputo, che lo lascia indietro di un'intera lunghezza, capo sulla curva. E vediamo che inattanto, Lopresti e Milo tentano di sorpassarsi, si sta quasi a vicenda, e Milo che tentano di sorpassare Lopresti, non gli riesce. Milo, 94, Lopresti, 87. È Lopresti che tenta adesso di sorpassare il suietto, Invece si ferma, i etto. Vediamo cosa succede adesso a questo punto. Angelini, 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 il canelino di coda ma ricordiamo è giovanissimo, solo 16 anni, ha la sua prima competizione in gara prima e seconda posizioni in contrastate vediamo cosa succede terza posizione per IET poi Sesto Pasquali e poi seguono Alfano e Frasca, Frasca ha superato Alfano e penultimo, la terza giro due faldoni della gara, primo e secondo posto Angelini e Caputo che quasi doppiano Frasca e Alfano che chiudono il canelino di Milo tenta il sorpasso in questo istante Pasquali ai danni di Milo Lopresti prende una lunghezza, eccolo che ce la fa, quasi lo basta, niente di una cosa il variato ci prova adesso, nuovamente Pasquali, non gli riesce, non è utile Milo conserva la sua sesta posizione, partono tranquilli ai danni di IET che resta indietro Milo, Milo perfetti Milo, Pasquali, IET to Sero Stiamo per chiudere la gara E ne vediamo E non è molto prima per chiudere questa categoria A E la finalissima valevole per la tappa di campionato italiano 2014 La gara che si doveva disputare a Cassino è l'unico Seguito da Piermano Caputo Seconda posizione Arriva il... Non è questo ovviamente perché è stato fissato E' pianto come meglio preferite l'Alfano Un giro in meno quindi per Alfano Ecco che sta per prendere la bandiera Con una bella Chiude la gara Chiude la gara Miro Chiude la gara